Buongiorno all'informazione di oggi 3 ottobre 2014 di Telemerito, iniziamo con la politica, il centro-sinistra al rush finale per le primarie del prossimo 5 ottobre, Callipo a Reggio Calabria e Oliverio a Catanzaro per la chiusura della campagna elettorale, alla resa dei conti il centro-sinistra per la scelta del candidato alla presidenza della regione, tra poco meno di 48 ore infatti apriranno in tutta la Calabria i seggi delle primarie. A contendersi il posto da capolista per il prossimo 23 novembre Gianluca Callipo, Mario Oliverio e Gianni Speranza in rigoroso ordine alfabetico. Una campagna elettorale che i tre candidati hanno condotto macinando chilometri per tutta la Calabria per incontrare i cittadini, i simpatizzanti e il corpo quanto mai etereogeneo del centro-sinistra. Sotto osservazioni le ataviche problematiche, le difficoltà di una regione che deve ripartire nei settori cruciali del welfare, dell'economia, occupazione e della sanità. Un confronto non solo generazionale tra i dinosauri della politica, per dirla alla Callipo e le giovani leve, ma anche a colpi di sondaggi, credibili o meno, a vantaggio ora dell'uno, ora dell'altro, soprattutto tra i due esponenti del Partito Democratico. Il tutto mentre il centro-destra annaspa a trovare la squadra per il candidato unitario di area. Callipo ha scelto Reggio Calabria dove stasera alle 17.30 al Consiglio regionale terrà il suo ultimo comizio. Oliviero, invece, chiuderà a Catanzarale 18 presso l'hotel Guglielmo. In attesa di domenica prossima, quando i seggi apriranno a tutti coloro che vorranno esprimere la propria preferenza dalle ore 8 alle ore 21. Le primarie di domenica 5 ottobre a Melito si svolgeranno in via nazionale nella sala convegni ex mercato coperto. L'orario è, come detto prima, dalle 8 alle 21. Si auspica una buona affluenza e si ricorda che possono votare tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Con l'occasione si ringrazia anche i commissari del Comune di Melito che si sono dimostrati sensibili alla richiesta del Partito Democratico, mettendo a disposizione la sala convegni sita al centro della cittadina e quindi di facile raggiungimento. La vicenda aeroporto dello Stretto, questa volta sembra davvero vicino il Red Rationem per l'aeroporto Tito Minniti. Il presidente della società di gestione, Carlo Alberto Porcino, conferma il difficile quadro in cui versa lo scalo Reggino. Da qui a 12 giorni al massimo l'assemblea dei soci dovrà pronunciarsi sulla prosecuzione delle attività o sull'obbligatoria attuazione delle gravi disposizioni sancite dal Codice Civile e previste in questi casi se non arriveranno nuove risorse per assicurarne il funzionamento. Se la società dovesse malauguratamente finire nelle maglie civilistiche che impongono la sua messa in liquidazione, allora il Tito Minniti chiuderà nel più breve tempo possibile in meno di un mese e cesseranno tutte le attività. Lo scalo sostiene ancora Porcino, costa intorno ai 3 milioni e mezzo di euro all'anno. Confidiamo nel supporto pieno e incondizionato da parte del socio provincia, nella persona del suo presidente dottor Giuseppe Raffa, l'unico fino ad oggi che ci siamo ritrovati accanto. Desidereremmo il sostegno reale, non solo fatto di annunci, ad esempio anche da parte della Regione che recentemente si è rivolta invece ad altri aeroporti indebitati, ma non a quello di Reggio Calabria. I tempi fino all'assemblea dei soci del prossimo 14 ottobre sono strettissimi, ma l'idea su come salvare l'aeroporto c'è. Adesso serve concretamente che i soci intendano onorare gli impegni che hanno assunto facendo arrivare le risorse allo scalo per garantirne la sopravvivenza. Si svolgerà domenica prossima 5 ottobre con inizio alle ore 18 e 30 una fiaccolata per le vittime della statale 106 Ionica organizzata dalla comunità di Marina di San Lorenzo e dal suo sacerdote Giovanni Zampaglione con la partecipazione anche della parrocchia di Rogudi. Vediamo il servizio curato da Maria Manti e le interviste al sacerdote Giovanni Zampaglione e a Gaetano Pace, presidente dell'associazione Amici di Raffaele Caserta. La comunità di Marina di San Lorenzo con la partecipazione della parrocchia di Rogudi organizzano una fiaccolata per le vittime della statale 106. Si partirà dalla chiesa, si raggiungerà la statale e si ritornerà indietro. Sarà una fiaccolata dove io ho richiesto la partecipazione di tutte le associazioni e mi auguro che ci siano tutte le associazioni presente nel territorio. Anzitutto la nostra associazione è la Laurenzianum che lavora sul sociale, ma soprattutto abbiamo qui a Melito Portosalbo un'associazione che è l'associazione degli amici di Raffaele. E allora cosa dire riguardo questa fiaccolata? Anzitutto con questa fiaccolata noi vogliamo lanciare un segnale forte. Vogliamo dire basta, basta vittime sulla strada, basta fiore sull'asfalto, cerchiamo di dare precedenza alla vita. Perché dico questo? Perché la statale, come qualsiasi altra strada, ha mietuto in questi anni tantissime vittime. Penso a mia madre, morta il 9 febbraio del 1996. Penso a Fortunato a Loi, un figlio di questa terra, che io ho perso e che non ho conosciuto purtroppo. Penso a Nunzio Siviglia, penso a Raffaele Caserta, penso a un ragazzo morto ultimamente al nord di appena 28 anni. Ecco tantissime persone, molte a causa dell'asfalto, a causa della strada. Allora vogliamo dare un segnale forte, attraverso la preghiera, attraverso la riflessione. Ecco perché invito tutta la cittadinanza a partecipare, a unirsi, un unico abbraccio a tutte le vittime della strada. E concludo affidando proprio alla Vergine Maria tutte le vittime della strada, ovunque cadute, lei che è madre di dolore, lei che è madre di speranza, possa accoglierele sulle braccia materne, come ha accolto Gesù, suo figlio deposto dalla croce. E allora l'invito che vi do e che vi lancio, partecipiamo numerose e preghiamo perché non ci siano mai più vittime a causa della strada. E grazie per l'invito che abbiamo avuto per questa bellissima manifestazione che ci onora a partecipare per questa problematica della 106. Noi come associazione amici di Raffaele Caserta, in collaborazione con Codice, siamo presenti su tutto il territorio per cercare in parte di diminuire questi gravi incidenti stradali dove, come diceva Don Giovanni, tante vittime su questa strada, veramente tanti, giovani ragazzi che hanno perso la vita, è veramente triste parlare di queste cose. Ecco, noi in questa manifestazione siamo partecipi su tutto il percorso. Speriamo che ci siano tante persone che ci collaborano insieme a noi. Noi come associazione amici di Raffaele Caserta abbiamo invitato anche le associazioni, il lupo, come voi già avete visto in questi giorni, l'associazione Amici di Ciccio Zerbi, detto il lupo, dove hanno fatto una bellissima manifestazione proprio per ricordare queste vittime sulla 106. noi siamo stati là invitati e vi posso assicurare che c'è stata una partecipazione popolare che veramente mi è fatto piacere. Ecco, io vorrei che quello che abbiamo visto ieri a Polistina si ripeta qui dalle nostre zone. Nessuno può tirarsi fuori di questa problematica, siamo tutti colpevoli di quello che sta succedendo su questa nostra 106. Noi come associazione Amici di Raffaele Caserta stiamo lavorando su questo territorio, naturalmente faremo il resoconto fine anno di quello che abbiamo ottenuto e di quello che andremo a fare nel futuro. Intanto questa manifestazione di domenica è molto importante per noi, è molto importante per tutte le vittime della strada, per tutti i genitori che hanno perso queste persone e con questo è un segnale che diamo forte e che tutti dovrete partecipare, tutti dovete darci una mano a tutti noi per poter portare avanti questo discorso che abbiamo intrapreso come associazione Amici di Raffaele Caserta. Io ringrazio Don Giovanni veramente per la stima e la fiducia e la benevolenza che aveva nei confronti di Raffaele, nei confronti della nostra famiglia per quello che sta facendo. Naturalmente noi ci fermiamo qua, speriamo di farla anche a merito, se ci sono le possibilità, verso fine novembre, di fare una fiaccolata che probabilmente andremo a invitare tutti i comuni sul territorio e fare una grossa manifestazione per ricordare tutti i nostri cari. Intanto io vi ringrazio e vi do appuntamento per domenica alle ore 18.30. Vi invito io personalmente come naturalmente siete stati invitati già da Don Giovanni con tanta passione. Speriamo che siamo in tanti dove possiamo veramente farci notare. Grazie di tutto. Rinnoviamo a tutti l'appuntamento di domenica prossima. Ci ritroveremo qui di fronte la Chiesa Santissima Trinità, in piazza. Ricordiamo anche che ci sarà la partecipazione del Presidente dell'Associazione Basta Vittime sulla Statale 106, Fabio Pugliese, e il Presidente dell'Osservatorio sulla Sicurezza Stradale, il Dottore Salomone. La cronaca e i carabinieri della stazione di Siderno hanno arrestato, su ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, un 46enne del luogo che deve espiare una pena residua di tre anni, un mese e 27 giorni perché è ritenuto responsabile di ricettazione, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Andiamo allo sport. La regina si prepara al derby di domenica pomeriggio alle ore 16 allo Stadio Granillo contro il Cosenza. Si prevede un'ottima affluenza di pubblico, così come si auspica il Presidente Lillo Foti. E veniamo al Fuzzal, calcio a 5, Serie B maschile, esordio in campionato per il Fuzzal di Melito che andrà a far visita alla Sant'Isidoro, una squadra della provincia di Lecce. Con questa notizia si conclude l'informazione di oggi e l'appuntamento è sempre per le 14 di domani con il riepilogo di tutte le notizie della settimana. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.